Negli ultimi anni il risparmio gestito in Italia ha registrato un vero e proprio boom, dal quale anche il private banking ha tratto giovamento, un mercato che nel nostro paese è in continua espansione anche grazie ai cambiamenti avvenuti nelle scelte finanziarie delle famiglie italiane. Secondo quanto emerge dalla recente relazione di Banche d'Italia, la ricchezza finanziaria lorda nel 2014 è aumentata ancora grazie all'increamento dei prezzi delle attività finanziarie, arrivando a 3.933 miliardi di euro a fine dell'anno scorso. La maggior parte, più di 1.000 miliardi di euro, sono investiti in depositi bancari, circa 526 miliardi in titoli obbligazionari, 380 in fondi comuni di investimento, 864 in azioni e partecipazioni, 803 in prodotti come assicurazioni, fondi pensione e TFR e infine 282 miliardi in altre attività. Di fronte a questa ricchezza finanziaria anche il settore del private banking gioca un ruolo fondamentale. Secondo l'analisi del mercato servito dal private banking in Italia, condotta sui suoi iscritti da IPB, l'associazione degli operatori del private banking, per la prima volta l'intero sistema italiano avrebbe superato la soglia dei 500 miliardi di masse amministrate, realizzando così il quarto anno di crescita consecutiva a partire dal 2011, una cifra che però è in costante crescita. Sempre secondo IPB, gli asset per tipologia di raccolta sono suddivisi in questo modo. La fetta più grande è circa il 38% alla raccolta gestita, il 34% alla raccolta amministrata, il 17% alla raccolta diretta e l'11% ai prodotti assicurativi. Ma chi sono i protagonisti di questo mercato? Secondo una ricerca a Magstat di giugno 2014, in totale sul panorama italiano sarebbero presenti oltre 240 player. 119 tra banche commerciali, banche d'affari straniere, banche specializzate, beauty finanziarie, SGR e SIM, con circa 6.600 private banker. 5 ma in crescita le reti di promozione finanziaria con struttura di private banking, con oltre 6.000 professionisti e 120 il numero dei family office che vantano 391 private banker. I primi tre gruppi bancari italiani controllano circa il 37%, mentre i primi 10 il 60% del mercato private servito. Insomma un mercato sempre più affollato in cui è difficile distinguersi dagli altri competitor per guadagnare quote di mercato. Secondo gli esperti sono possibili due strade, l'iper specializzazione in un'area ben precisa, oppure l'integrazione con le divisioni interne corporate e investment banking, con l'obiettivo comune di supportare al meglio le esigenze della clientela. In conclusione, seppur con qualche incertezza il settore del private banking ha davanti a sé un roseo cammino. Dei quasi 4.000 miliardi di euro di ricchezza finanziaria italiana, i private banker hanno in mano 500 miliardi. Si stima inoltre che siano circa 200.000 le persone in Italia con un patrimonio di più di un milione di euro. Gli spazi di crescita insomma sono enormi e la possibilità di catturare la generazione più giovane è la chiave per il successo futuro.